La fascia con il reddito più alto è stata abbassata da 4,30 al pasto a 3,50 mentre è stato inserito uno 0,50 per le fasce da 0 a 2.000 euro. Ecco, noi sia la Commissione Quinta, cioè Scuola, sia la Commissione Settima Politiche Sociali riteniamo che nell'invarianza della spesa, perché ci rendiamo conto che è un appalto già eseguito, cioè appaltato e quindi una spesa già impegnata con degli introiti già calcolati non può essere sconvolta. Noi riteniamo che togliendo quello 0,50 a pasto per la fascia 0 a 2.000 perché la realtà è che ci sono bambini che l'unico pasto vero è quello che possono mangiare alla mensa e quindi anche quei soldi potrebbero scoraggiarli, potrebbero scoraggiare le famiglie perché magari hanno difficoltà, quella quota che si doveva incassare si può benissimo spalmare sulle fasce con i redditi più alti e quindi nell'invarianza della spesa ottenere lo stesso risultato ma far sì che una solidarietà da parte delle famiglie che in qualche modo hanno un reddito più alto nei confronti di quelli che hanno un reddito più basso. Avete avuto modo di dialogare con l'amministrazione in merito? In realtà no perché la proposta è nata ieri, speriamo che ovviamente il sindaco, l'amministrazione la accolga però abbiamo cercato chiaramente nello spirito di collaborazione che cerchiamo di portare avanti in questo momento abbiamo cercato di venire incontro a quelle che potevano essere le esigenze dell'amministrazione appunto per questo parliamo di invarianza della spesa crediamo che le fasce deboli vadano tutelate